Non ci sono monumenti in questo paese per uomini come Frankie. Questi uomini io li definisco gli eroi dimenticati del nostro tempo. Quei ragazzi erano come... come fratelli. Il 17 settembre erano sulla ruta Iris. E' ritenuta la strada più pericolosa del mondo. Copro io! Fergie, sono io Frankie. Ho bisogno di parlare con te stasera. Si sono trovati nel posto sbagliato. Al momento sbagliato. Non esiste, non Frankie. Potteva succedere a più. Frankie non era mai nel posto sbagliato al momento sbagliato. Jamie mi ha dato questo. È da parte di Frankie. Tenimi questo al sicuro. Se vedi Fergus prima, per favore, dallo a lui e a nessun altro. Chi era quella donna in chiesa? Ve la dividevate? Ci siamo divisi ogni cazzo di cosa a parte te! Vogliono evitare lo scandalo. Potrebbero vedersi sfumare contratti da milioni di sterline. Siamo tutte e due in debito con Frankie. Lo sai anche tu questo? Non c'è un cazzo nei rapporti. Li ho guardati tutti. Schiaffeggiani. Forte. Devi colpire più forte se vuoi colpire me. Credo semplicemente che Frankie si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. È stato un omicidio. Ha funzionato. Li ho lasciati adesso. Non credo andranno in giro a fare altre domande. Io ti amo, Fergus. E tu stai ancora incollato a lui. Dimmi la verità. Solo la verità. Grazie. Ciao.